ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 9 maggio 2022 iniziamo insieme una nuova settimana che ci condurrà verso la fine della primavera siamo ormai a metà primavera diciamo così comunque la bella stagione è incipiente nonostante il tempo rannuvolato dei giorni scorsi poi vedremo come il tempo si mantiene in questa giornata però iniziamo il nostro colloquio il nostro rapporto con il santo del giorno sfogliamo il libro e troviamo che oggi si festeggia san paconio san paconio abate fu il primo padre del cenobitismo monastico visse in egitto intorno al 400 in una regione molto brulla molto aspra la tebaide non era la tebaide della grecia era la tebaida dell'egitto una regione desertica in cui si viveva distenti di sacrifici ebbene fu prima un soldato poi convertitosi si dedicò alla vita monastica di cui scrisse una regola divenuta famosa fu ovviamente apprezzato per la sua santità di vita e per i sacrifici che compì vediamo ora le previsioni del tempo il tempo si mantiene un po' nuvoloso ieri abbiamo visto l'alternanzi di sole e di nubi ebbene la giornata di oggi sarà caratterizzata da una nuvolosità sparsa ovunque più sole da metà pomeriggio le temperature massime saranno comprese tra i 20 e i 21 gradi le minime scenderanno sono scese ormai ai 12 i 20 ispireranno sulle coste da una direzione debole di nord e nord ovest mentre sull'interno ispireranno da est e abbiamo una curiosa definizione sul corriere adriatico per quanto riguarda gli effetti del vento sul mare onde con creste che cominciano a rompersi con schiuma di aspetto vitreo si notano alcune pecorelle con la cresta bianca di schiuma beh è una descrizione un po poetica ma che rende bene l'idea ebbene adesso cominciamo la nostra rassegna stampa a partire oggi dal resto del Carlino vediamo il Carlino ha una edizione ridotta insomma un'edizione di carattere marchigiano quindi le notizie lunedì sono un po' scarse però vediamo che ci sono delle bellissime pagine che vengono dedicate a tre avvenimenti di sport due belli e uno insomma è una notizia di cronaca quindi un po' drammatica poi vi riferiremo iniziamo con la colle maraton e la colle maraton che ha caratterizzato la giornata alla mattinata di fano ieri ma non solo di fano ma anche dei centri dell'entroterra a partire da barchi e poi piagge san giorgio san costanzo mondolfo giugiu fino a fano colle maraton è il respiro della rinascita dopo due anni si riprende alla grande con questa bella manifestazione di carattere sportivo ma anche di carattere turistico ambientale di carattere promozionale per la città circa 700 atleti da 19 nazioni sono a corsi a barchi per la storica competizione festa per il territorio vincono un marrocchino e una maceratese dunque una festa per il territorio un segnale forte di rinascita dopo gli anni drammatici della pandemia è un esempio l'importante di coesione in risposta ad un contesto internazionale angoscioso ebbene c'è stata veramente tanta tanta affluenza anche di spettatori attorno a questi atleti che hanno percorso 42 chilometri insomma la lunghezza di una maratona va bene che era in discesa ieri il tempo era climente perché non c'era molto sole quindi non era molto caldo c'era però un vento che in qualche tratto di strada spirava in senso contrario e quindi rendeva ancora più faticosa la gara degli atleti ha vinto il un marocchino un marocchino si tratta di Iunes Zituni che non era nuovo a imprese del genere tanto che aveva vinto già la colle marathon in diverse in precedenti edizioni e poi altri nomi vengono menzionati ovviamente sui giornali questa mattina si tratta del connazionale mohamed yahì e di matteo lucchese dell'avis castel san pietro che hanno condiviso i posti d'onore ovvero il secondo e il terzo posto tra le donne successo della maceratese denise tapatà del team stamura di ancona davanti a barbara poggiali triathlon forlì questo è il nome della società e ad elena smacchia dell'avis saido di urbino anche la mezza maratona ha avuto i suoi campioni nell'ordine di classifica ha visto sul podio nicola borini poi ancora eugenio calcina mirco cimarelli tra gli uomini e tra gli uomini e cecilia tirelli laria biagioli e uria sahadi tra le donne e poi vediamo che anche pesaro ieri ha avuto la sua bella manifestazione sportiva si tratta di una gara la quarta edizione della run for red cross organizzato ovviamente dalla croce rossa red cross e quasi 200 hanno corso in favore della ucraina per due anni dopo due anni di stop si è tornata anche questa manifestazione con la partenza alla palla di pomodoro una podistica non competitiva che ha visto al via 995 no mille scusate 195 atleti per 10 chilometri e altrettanti per la camminata di 5 a primeggiare ancora una volta sono stati l'aria sabatini tra le donne e francesco tornati tra gli uomini questi i vincitori ed ora veniamo la gara sportiva invece che si stava per concludersi con una vicenda drammatica si tratta della regata pesa ropola notte di terrore e di miracoli però per fortuna una barca si rovescia due intrappolate due donne all'interno della stiva però sono state salvate quindi la cosa si è conclusa per fortuna senza conseguenze uno scafo della regata urta un ostacolo a 17 miglia della costa le donne restano prigioniere sotto coperta i sommozzatori ci mettono ore per tirarle fuori ebbene però si è risolto dicevo tutto bene che cosa è accaduto è accaduto che impattando con un ostacolo non viene definito che cosa fosse questo ostacolo fatto sta che il bulbo della barca si è rotto e l'imbarcazione si è rovesciata due donne che erano nella dinette così si chiama lo spazio sotto coperta dove spesso è situata anche la cucina sono rimaste intrappolate sotto lo scafo ma per fortuna c'era una bolla cittadaria gli altri tre uomini invece boris lo skipper il figlio e un altro sono finiti in mare sono riusciti a risalire sopra lo scafo che era stato ribaltato e così sono rimasti per ore però insomma è successo che sono riusciti a chiamare aiuto e si è fatta viva una barca una barca che si trovava in zona la tsarevic battente bandiera maltese la quale ha tratto in salvo appunto poi con l'aiuto anche dei sommozzatori le donne imprigionate sotto coperta un altro articolo a fondo pagina green pass raffica denunce contro filissetti filissetti è responsabile dell'ufficio scolastico regionale e l'avvocato pia perrucci di valle foglia che ha presuntato 50 querele per abuso d'ufficio per conto di altrettanti insegnanti ebbene si tratta di una azione condotta dal legale di valle foglia che è stato incaricato di procedere penalmente da una cinquantina di insegnanti non vaccinati ma guariti dal covid che si sono visti recapitare una circolare dal dirigente filissetti che li obbliga di fatto per chi è guarito da oltre tre mesi a stare a casa pur in vista di scrutini ed esami perché il suo green pass sarebbe scaduto e questa secondo legale sarebbe un'azione appunto non in sintonia con la costituzione e quindi c'è questa azione legale vedremo come andrà a finire green pass raffica di denunce contro filissetti Marche Nord è un'azienda che funziona bene lo dice il commissario regionale della lega l'onorevole lucentini mauro lucentini che risponde così al consigliere Baiocchi che aveva chiesto il cambio della dirigenza ospedaliera della dirigenza dell'azienda ospedaliera Marche Nord secondo il appunto Baiocchi che non sarebbe stato in grado dopo tutto quello che è accaduto di continuare a governare a gestire tutte le strutture ospedaliere i dati evidenziano come il fenomeno della mobilità passiva ha detto Mauro Lucertini sia determinato non da prestazioni di specificità e complessità elevate ma secondo lui dall'erogazione di prestazioni a bassa media complessità che l'ASUR non riesce ad erogare capillarmente nel territorio per tale ragione l'orientamento dell'attuale amministrazione regionale sarebbe quello di potenziare la sanità territoriale ebbene un preventivo una promessa una occasione appunto di fare delle cose speriamo che vengano fatte e poi che bella festa al poderino ieri a Fano piazza unità d'italia trasformata in un parco giochi è un parcheggio un po un po così desolato un po squallido durante tutto l'anno invece ieri è stato veramente trasformato in una realtà vissuta da tante famiglie e da tanti bambini grazie appunto all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale una città da giocare che prevede poi una serie di feste in tutti i quartieri ebbene il poderino ieri è stata la prima ad organizzarla dal tiro con l'arco a quello con la pistola a raggio laser passando per il gioco dell'oca di John Betty e poi ancora tante altre iniziative c'erano i clown orsetti che avevano organizzato la manifestazione la terapia degli abbracci assieme alla comunità ucraina che ha distribuito composizioni floreali le coroncine che sono un augurio di speranza di pace di felicità in quel paese tanti tante coroncine con fiori colorati qui vediamo una fotografia dell'assessore dall'assessore barbara brunori assessore al decoro urbano che è stata una delle organizzatrici appunto di questa manifestazione e ieri è stata lì insieme a tutte le famiglie e tutti i bambini del poderino a festeggiare a festeggiare il gioco il carattere del gioco sia come spirito educativo sia come appunto come aspetto ludico c'era anche l'assessore ti è in lucarelli assessore agli eventi che ha detto finalmente la città è ripartita grazie a questa piazza gremita prima adibita a parcheggio e ora invece puzzante di vitalità è stata veramente una bella iniziativa e veniamo anche ad un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di ieri domenica a Fano un ubriaco sbatte contro un'auto ferito gravemente un sessantenne era un moldavo è stato denunciato aveva percorso con la sua bmw in senso contrario c'era appunto il senso vietato via giulieni e poi sbucando in via vittorio veneto è andato a cozzare contro una 500 una fiat 500 che in quel momento procedeva lungo la strada in direzione mare monte ebbene dall'urto da forte urto la macchina si è ribaltata e dentro c'era un sessantenne che prima è stato trasportato al vicino pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce che dista appunto pochi pochi metri e poi è stato trasportato invece nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pesaro nei confronti dell'investitore il moldavo hanno proceduto i vigili urbani di Fano i quali lo hanno sottoposto al controllo dell'alcol test e questo è risultato positivo addirittura oltre cinque volte in più del consentivo quindi lui è stato denunciato e il veicolo è stato confiscato festa del patrono oggi a Cagli si celebra con una messa e la processione San Geronzio Martire oggi 9 maggio è un giorno molto atteso da Cagli che festeggia da secoli il suo patrono era vescovo di Cervia nel 501 partecipò al sinodo romano indetto da papa Simmaco contro l'antipapa Lorenzo un personaggio storico molto venerato in città e qui finiamo di sfogliare il resto del Carlino perché appunto poi l'edizione è contratta è molto riassuntiva questa mattina e quindi passiamo al Corriere Adriatico Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo l'apertura dedicata appunto alla Colle Marathon ritorno alla vita ma la vittoria è del solito zittuni bene leggiamo qualche passo di questo bell'articolo scritto da Andrea Maduzzi un piccolo grande inno alla vita ha intitolato la Colle Marathon del ritorno perché la sensazione non è stata tanto quella del tempo che si è fermato in questi due anni passati anche a contare i giorni che separavano dalla diciottesima edizione scippata appunto dal covid prima del 2020 poi dal 2021 ma di un tempo diverso e ancora più ricco proprio perché lungamente e fortemente atteso c'era molta aspettativa per questa iniziativa che è sorta celermente dopo le prime edizioni dopo quelle iniziali perché veramente tutto il contesto, l'organizzazione, il paesaggio, lo spirito sportivo hanno influito per la crescita della Colle Marathon il territorio attraversato con gli ingredienti di sempre hanno assunto un sapore più intenso o forse l'assenza della corsa che scivola dalla collina di Barchi al mare di Fano guadando i borghi di Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa, San Costanzo ha indotto a gustarsela con pienezza che poi la vittoria di Iunez Zituni già sul gradino più alto del podio nel 2018 e nel 2019 abbia fornito l'immagine di un filo che non si è mai spezzato questo appartiene invece alla storia della gara il testardo Montanari gira i meriti al gruppo Annibale Montanari è l'organizzatore di questa bella iniziativa sportiva e ieri c'erano anche tanti politici a corsi per festeggiare e per premiare gli atleti c'era il presidente della provincia Giuseppe Paolini c'era l'assessore regionale Stefano Aguzzi c'erano i sindaci di Mondolfo Barbieri di terre roveresche Sebastianelli e il presidente regionale del CONI Luna c'era anche il vice sindaco di Fano Cristian Fanesi dato che il sindaco Massimo Seri è fuori Fano anzi fuori Italia e in Sierra Leone dopo 20 anni vince il centro storico trionfono cultura, spettacolo e festa ebbene ieri c'è stata anche una bellissima manifestazione a Fossombrone a Fossombrone è stato il trionfo il trionfo del carnevale festa doppia dunque per l'intera notte nella città metaurense dopo 20 anni il centro storico ha vinto il paglio del cardinale in abbinata alla gara equestre al termine del trionfo del carnevale che ha segnato la ripartenza all'insegna dei giovani di tanti volontari della Proloco presieduta da Diego Tramonti pubblicamente ringraziato dal presidente provinciale dell'unione delle Proloco appunto della provincia Damiano Bartocetti e qui vediamo alcune fotografie un bel foto servizio per questa bella manifestazione con tanta gente in costume quindi tanto colore tanto folklore e tanto spirito agonistico per questa bella manifestazione che rievoca un po' i fasti di Fossombrone quando era a Corte Ducale anche il Corriere Adriatico poi a fondo pagina parla dell'incidente che si è verificato nelle prime ore della mattinata di ieri in via Giulini e via Incrocio con via Vittorio Veneto e poi passiamo alla assemblea della Banca di Credito Cooperativo che si è svolta ieri nel Teatro della Fortuna Consiglio di amministrazione ridotto di due membri è passato da 11 a 9 e i giovani soci ormai hanno voce il bilancio del 2021 della BCC di Fano approvato nella riunione di nuovo in presenza è tornata infatti a riunirsi ieri al Teatro della Fortuna in totale presenza dopo due anni in cui i soci avevano potuto farsi rappresentare solo tramite delega ieri invece hanno votato in presenza sono emerse due novità importanti in questa riunione la riduzione del numero dei consiglieri da 11 a 9 in base alle ultime regole varate dall'Unione Europea e l'ingresso per la prima volta di un giovane di un giovane che fa parte dell'Associazione dei Giovani della BCC che è stata costituita nel 2019 quindi un nuovo impegno, nuove proposte nuove iniziative appunto fresche per quanto riguarda l'inserimento dei giovani anche a livello direttivo la new entry è quella di Giacomo Magnanelli figlio appunto di Franco Magnanelli che era vicepresidente della BCC il quale ovviamente non si è ripresentato ed ora il consiglio è formato da Romualdo Rondina che dal 1993 svolge le funzioni di presidente e poi abbiamo Paolo Antonioni Cristiana Beltrami Eleonora Giovannelli Francesco Pedini Simone Petrelli Luciano Radigi e Ruggero Adanti Sperandini oltre a Franco Magnanelli non sono stati confermati i vecchi consiglieri Marco Boschini e Michele Brocchini i quali hanno rinunciato al loro compito al loro impegno invece l'esercizio il bilancio del 2021 è stato chiuso ed esposto evidenziato dal direttore Giacomo Falcioni l'ufficio scolastico regionale a Metauriglia pochi bambini così ha risposto l'ufficio scolastico regionale alle proteste dei genitori che volevano trattenere appunto la scuola nella frazione di Metauriglia l'ufficio scolastico ribadisce che con nove bambini iscritti non è possibile istituire una sezione autonoma in base all'attuale normativa che ne prevede un minimo di 18 e nemmeno i bambini ucraini che si sono aggiunti costituendo una fase incerta potranno stare lì anche solo pochi giorni speriamo veramente che sia così perché poi possano tornare nel loro paese possano appunto confermare un numero che sia sufficiente per lasciare la scuola appunto a Metauriglia e poi parliamo di un lutto parliamo di un lutto che si è verificato a Pergola è morto Don Luigi parroco di Bellisio Solfare aveva 86 anni le esequie si terranno domani si è spento Don Luigi Merol l'istorico parroco appunto di Bellisio era stato ordinato sacerdote nel 1961 a Serra Sant'Ambondio fortissimo il suo attaccamento alla comunità della frazione Pergolese dove oltre a guidare la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù si è sempre prodigato per l'accoglienza di tanti gruppi in particolare appunto dei giovani passiamo a Senigallia a Senigallia vediamo che c'è stata una reazione da parte delle forze dell'ordine pubblico contro chi spaccia droga e chi fa abuso di alcol e tolleranza zero in titola appunto il giornale task force con denunce e multe controlli di carabinieri e polizia tre giovani con il fumo fuori della discoteca tre ubriachi nei guai spaccio e abuso di alcol nel weekend come emerso da una serie di controlli incrociati svolti dai carabinieri della polizia appunto una task force per garantire la sicurezza nei locali e sulle strade senigallesi che si è conclusa con la denuncia di un pusher due assuntori segnalati in prefettura due ubriachi molesti sanzionati di cui uno al foro anonario oltre a un ubriaco al volante denunciato e poi un'espulsione e due avvisi orari insomma c'è stata veramente una nottata proficua quella del weekend da parte delle forze dell'ordine ovviamente per cercare di calmare la situazione dell'ordine pubblico che a Senigallia è piuttosto effervescente e poi vediamo una notizia curiosa a fondo pagina il fiorista delle star ha sposato il suo John si tratta di Ercole Moroni che ha sposato appunto il suo John era il fiorista delle star che ha coronato il sogno d'amore dopo oltre 37 anni di convivenza con John Kevin Teable la cerimonia si è svolta ieri mattina nell'elegante cornice di Palazzo Baviera il centro storico con l'ex sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi a celebrare appunto questo matrimonio veniamo ora alle pagine pesaresi dove si parla di Piazza del Popolo perché è stata trovata la ditta e il Comune vuole garanzie per i San Pietrini sappiamo che in Piazza del Popolo è impreventivo il rifacimento di tutta la pavimentazione la vediamo qui in questa fotografia è l'assessore Pozzi che ha detto che ha preso l'appalto deve assicurare di avere il materiale già pronto è un intervento cospicuo questo che verrà effettuato e Pozzi ha precisato che nel momento in cui verranno effettuati i lavori la piazza non verrà chiusa ma si faranno gradualmente quindi questo centro di riunione cittadina rimarrà sempre fruibile sempre aperto giovedì pomeriggio si è tenuta la gara si sono aperte le buste in forma appunto Riccardo Pozzi ed è stata individuata la ditta sono in corso le verifiche generali della giudicataria il nome ancora non viene reso noto fin quanto tutte le operazioni non sono state espletate però insomma la ditta è stata trovata ma non è solo questo l'intervento appunto che si sta facendo a Pesaro vediamo qui altri tre interventi importanti si tratta quello del palazzo di Ricci le impalcature che ingabbiano il retro del San Domenico le vediamo qua e poi ancora palazzo Almerici questa bella scalinata che conduce alla biblioteca dei musei oliveriani e anche palazzo Ricci costretto a ritoccare i costi del restyling ci vuole una cifra aggiuntiva di 140 mila euro paura alla Pesaro Pola la barca si rovescia in salvo cinque persone è stato un vero e proprio miracolo il presidente della Lega Navale si è messo in contatto con i naufraghi l'incidente a largo della costa croata e poi Marche Nord funziona lo dimostrano i numeri e la presa di posizione del commissario della Lega Mauro Lucentini contro Baiocchi di Fratelli d'Italia abbiamo parlato come la richiesta delle dimissioni della Capalbo sono state respinte a Urbino la storia dell'antica abbazia che accolse Federico Infante questo è un aspetto poco conosciuto della vita del Duca Federico anche Canavaccio partecipa il 4 e il 5 giugno prossimo al 600 compleanno del Duca perché? perché proprio in questa abbazia di Canavaccio il Duca Federico passò i primi tre anni della sua vita il compleanno di Federico da Montefeltro nato 600 anni fa coinvolgerà anche il territorio del comune Ducale in un racconto che come ha detto il sindaco Gambini dovrà continuare sicuramente fino al 2023 ma anche oltre ecco allora che Canavaccio il 4 e il 5 giugno si veste a festa per rivelare la storia del piccolo Federico al monastero di Gaifa i suoi primi passi con i monaci qui sosta l'infante Federico figlio illegittimo nascosto dal padre dato in balia ed ospitato presso l'abbazia di allora tra l'altro nel tempo incendiata due volte oggi pieve di Gaifa racconta la brillante ricercatrice urminate Anna Fucini Federico ritornò a corte dopo i tre anni ma non dimenticò mai forse era anche troppo piccolo la sua permanenza in questo luogo di pace di solitudine appunto a Santo Stefano di Gaifa e vediamo ancora amore e dolore l'arte tra passato e presente il percorso creativo di Gheller attraverso gli oratori di via Barocci e con questa notizia chiudiamo i giornali terminiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi dà appuntamento domani alle ore 7 e intanto vi auguro per oggi una buonissima giornata a risentirci